Cos'è il cinema? Molteplici possono essere le risposte. Per alcuni è un'arte, una tecnica visiva, un escamotaggio al quotidiano, per altri più semplicemente divertimento e cultura. Ma in fondo siamo d'accordo su un punto. Nelle serate invernali è uno dei modi migliori per passare le serate a tutte le età. Ma per la cittadinanza di Ariano Irpino ciò non sarà più possibile. È una perdita oppure no? Che cosa ne pensano i cittadini? È una perdita perché c'è sempre qualcosa in meno da fare e anche da utilizzare. Il cinema è stato affidato a privati finora, non era un cinema comunale, quindi tutte le colpe a un'amministrazione credo che non se ne possono dare. Certo il privato dovrebbe essere anche messo nelle condizioni di operare, quindi determinati lavori della proprietà andavano fatti da parte dell'amministrazione. Quindi c'è un po' e un po' di colpa anche se il cinema non è che abbia mai attirato tantissimo qui a Ariano. Spesso e volentieri si preferisce andare fuori anche per fare un giro, mangiare una pizza e allontanarsi un po' da Ariano. Il cinema è importante però non è che stia andando, si è mai andato. Che ne pensi? Io al cinema non ci vado, però penso che oramai con le televisioni e cose, il cinema, a meno che non fanno qualche film nuovo, anche qui a loro uno va a vedere. Quindi secondo lei se ne può fare a meno? Secondo me se ne può pure fare a meno, però a meno che non fanno qualche film nuovo, che escono nuovi, allora uno se lo fa pure a vedere, con la famiglia e cose. Però oggi i ragazzi non ci vanno al cinema, che hanno ben altre cose da pensare, non è che vanno al cinema. La famiglia può andare al cinema, però se esce qualche film nuovo uno lo va a vedere, però se fanno qua, come avrebbe detto, film vecchi. Ogni cosa che si perde ad Ariano è sempre una perdita, è come tutte le altre cose. Se ci tolgono queste cose, sono cose essenziali, cose principali della vita, che il cinema, passare una retta di tempo, lo tolgono e danneggia tutta la popolazione arianese. Da Ariano ci stanno togliendo tutto, tutto quello che noi avevamo ci stanno togliendo, dall'ASL, dal cinema, dalla scuola infermieristica che abbiamo, che l'hanno portato, ci stanno togliendo tutto. Questo è un paese che sta morendo, sta diventando un paesello che sta nei dintorni, con una popolazione di 20.000 abitanti, votanti, siamo 23.000, come popolazione, ci stanno togliendo tutto. È una vergogna perché Ariano è un comune che ha un numero elevato di abitanti e metterli ogni volta, ogni weekend, o comunque ogni volta che uno voglia andare al cinema, in condizione di prendere la macchina e farsi chilometri, è un disagio che uno avverte in maniera molto forte, soprattutto poi per i ragazzi che non sono motorizzati, li allontani dal mondo del cinema, che è un mondo culturalmente importante da coltivare, perché non c'è solo il cinema commerciale, ma c'è anche il cinema d'autore, e quindi è una mancanza che sicuramente avvertono tantissimo. Anche se la struttura non era delle migliori, è sempre meglio averlo o no? L'auditorium non è una struttura adatta, diciamo, esperti o comunque ragazzi che se ne intendono, mi hanno detto che anche per rappresentazioni teatrali non è adatto, il palco è troppo piccolo. So che il teatro di Ariano prima era chiamato il piccolo San Carlo, adesso tenerlo chiuso, semi abbandonato, mette molta tristezza. Ariano Alpine sta perdendo tante cose, ma il cinema era importante perché porta gente, aggrega persone, spettacoli, che vuoi fare? Anche se la struttura non era delle migliori, secondo lei era meglio averlo? Beh, non era delle migliori, comunque funzionava. Quando c'è stato bei film la gente ci veniva, era sempre pieno. Il centro storico adesso è ancora di più morto? Certo, si sospende altre luci, la gente non ne viene più. E si chiude prima pure la sera, ce ne andiamo pure noi prima. Noi siamo andati a vedere il film, poi è venuto da sud a Mirabella, c'era tutta Ariano, c'era. Vergognoso, cioè un paese come questo, secondo paese dopo la provincia di Avellino, non ha un cinema, è qualche cosa scandaloso.